Musica Bella a tutti ragazzi, qua è Ronnyman e siamo qui oggi con un nuovo video Siamo tornati su Tower Defense Allora ragazzi, questo Tower Defense è diverso dallo scorso Perché questo qui è debug ed è un Tower Defense che io ho giocato tipo tre anni fa Ma non mi ricordavo come si chiamava E allora ho scritto tipo insetti o una cosa del genere e l'ho trovato, intanto si apre sopra Vabbè comunque, cominciarei subito a fare, questi qui sono tutti i livelli Io li farei all'inizio tutti facili, poi tutti normali e poi tutti hard, che è stra difficile Il primo l'ho già fatto facile ed è troppo facile quindi non lo faccio Quindi facciamo il secondo con facile ed è già un pochettino più difficile Allora qui ci dice cosa avviene il prossimo round Qui ci sono le cose da comprare E qui si può fare start per fare partire... Vabbè adesso ve lo faccio vedere se no Allora io metto per il primo round, visto che vengono sei di quelli Quindi faccio così, op, op, e op, così ne abbiamo tre Faccio partire, faccio start e arrivano sei mosche Vediamo se riescono a mangiarle tutte perché sono qua Ok Adesso per non mettere altri di questi cosi, li potenzio Cliccando sopra potete potenziare la potenza La velocità dello sparo Tipo tan 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 E poi il raggio, quindi adesso io faccio potenza e velocità Perché il raggio non ci interessa molto Facciamo così E ce la facciamo di tutte e tre Adesso facciamo di nuovo start e vengono 13 mosche Piano piano arrivano mostri sempre più insetti Sempre più difficili Le mosche tengono, basta cliccare su una mosca Tiene 16 di vita da come ho visto 16? No Sì forse 16, voi non lo so Comunque la seconda ondata arrivano questi Che già tengono un pochettino di più Però non ci sono problemi perché il nostro Le nostre torrette potenziate Ecco, quelli c'è, tiene 180 Però contate che questo qui ha 70 in attacco 70, 140, 210 Quindi li sciottano come nulla Intanto qui aumentiamo la Di 1, la forza Mettiamo anche la velocità di 1 Hop e hop E adesso arrivano 4 di questi e 12 mosche Vabbè, continuiamo, inutile che vi spiego Ormai più o meno avete capito Vi taglierò dei pezzi Sì, sarà tutto tagliato Così almeno Calma, è sempre freddo Adesso bisogna vedere se riusciamo No, 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 no Già ne arrivano troppi Allora, quando passano, faccio così E metto questo qui Se non basta Ne metto un altro ancora Perfetto Questi qui per adesso li lasciamo Dopo li potenziamo Adesso concentriamoci su questi qui che ci sono qua Allora, il prossimo anno ne vengono 8 di questi Quindi se adesso questi qui sono passati Vuol dire che Vuol dire che, vuol dire che, vuol dire che non bastano Allora, c'erano un po' di soldi Però, e quindi, niente Sarò un po' di soldi Vabbè, proviamo Allora che vada Mettiamo un altro di questi qui qua dietro Proviamo un attimino Ma sì, dai che Sparate tutto Io mi preparo a comprare No, va benissimo Va benissimo Ce la fa Va benissimo Va benissimo Allora, adesso potenziamo La velocità Di questa E questa Facciamo così E così Mettiamo anche un po' di range Non basta più Vediamo adesso cosa No, adesso arrivano due di questi Quindi saremo in difficoltà Saremo in difficoltà Quindi direi di mettere Un'altra di questa Questi qui hanno 500 Quindi addio Ha ancora 50 Va benissimo Ce la facciamo ancora Allora Questo qui, ragazzi Se è un laser Serve per Adesso Vi faccio vedere Due metto È un laser Adesso vengono due di questi Vediamo se riusciamo a tenerli Quando arrivano qui Gli oggetti Questa zona Parte un laser Eccolo In questo caso due Perché ho messo io Due potenziati Però adesso non ammazzo Perché è ancora leggero Però ammazzerà spesso Cioè Subito Oddio Perché passano? Perché passano? Perfetto Allora Adesso io voglio potenziare questo Perché è uno dei Più Più Di più Powa Come vedete sto Ammazza subito Questo qui Perché è un laser Tipo toglie 40 Ogni Tic Ammazza la mosca È perfetto Mancano questi due Ce la facciamo Voglia? No Vabbè Uno è passato ragazzi Fote sega Allora Possono arrivare qui Fino a 20 cose Infatti vedete Meno 19 E siamo già a 9 di 50 livelli Adesso non so se li faccio tutti in questo video Non lo so Non penso però Non ci so ma vediamo Allora intanto qui Aumento la potenza E aumento la potenza Ok ok dai 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 Servono soldi Servono soldi ragazzi Benissimo ce la fanno Ce la fanno a tenere Allora potenziamo 1 e 2 E poi Mettiamo un po' di No mettiamo un po' di velocità a questo Anzi aspettiamo un attimo Così io mettiamo questo Questo qui come vedete Sti scarabèi se li mangia fritti Sopra di questo non arrivano Adesso ci sono 18 scarabèi e questo Quindi Mettiamo qui e appena arriviamo a 800 Mettiamo il target Così almeno Dai dai arriva a 800 Perfetto Così ci sono più target Ed è impossibile passare da questo Perfetto Aspettate un attimo che mettiamo Allarghiamo un po' questo E mettiamo la potenza a questo E uno a questo Ok vediamo adesso un po' come va a finire La velocità è importante anche E' molto importante la velocità Ecco come vedete qui Gli scarabèi non passano Non riescono ad arrivare dopo Oltre questo Questa linea Li guasciotta Allora Facciamo così Ok questo qui è al massimo Adesso potenziamo ancora Questo lì E' bene così E' benissimo E' benissimo Così guardate come spara questo qua E' una bomba Adesso si passano gli scarabèi perché Caccapupù perché c'è troppa gente Oddio però qua ci rovinano Siamo a 15 Essendo che è facile Sono già in difficoltà comunque Perché Adesso chi passa 38 di quelli Proviamoci Proviamoci però La vedo un po' male La vedo un po' male Mettiamo un po' che tiene range Ah no Gli scarabèi perfetto Con questi qui Sono deboli Ok Mettiamo anche un po' questo Mettiamo il range Perfetto Ho aumentato anche la velocità di questo Adesso Mettiamo qua un po' di forza Perfetto Adesso ci abbiamo tutti e tre Questi qui al massimo Allora ragazzi Io in questo gioco vi consiglio A parte che vi lascerò il link Nella descrizione Così potete giocare anche voi Perché io lo trovo stupendo Questo gioco E me lo finirò tutto Comunque vi do un consiglio Quando mettete questi oggetti Non mettetene altri Fino a che non sono al massimo Perché Vi riempite di troppe cose Che non servono a nulla Appena messe Comunque qua Allarghiamo Adesso chi viene Nove di questi Proviamo Questi qui sono forti Questi qua Oddio Cioè Mostro 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 Questi qui Ah si Ormai Se li mangiano Come non so che Però ragazzi Vi ricordo che siamo ancora A livello 18 Ci saranno tante difficoltà Perché questo livello L'ho provato In facile E sono arrivato Tipo al 35 E' difficile E' difficile Adesso faccio un attimo Qui Appena arrivano al 2005 Potenzio l'ultimo Di forza Boom Buka 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 Adesso metto anche questo Così ci abbiamo Tutto al massimo Hopla E' tutto al massimo Adesso ci concentriamo Su questi qui Anche se questo qui Potrei anche toglierle In effetti Messo qui dietro Non serve a nulla Noi facciamo partire ancora Vediamo un po' Però ragazzi Fatemi sapermi Come ci si preferite Tagliato Oppure tutto intero A me tutto intero Non dispiacerebbe Comunque Cioè vedete un po' Come mi muovo Finito l'altro round Adesso Ci sono 25 scarabè Allora ragazzi 25 gli scarabè Sono lenti Ma sono delle bestie Ma delle bestie Assurde Guardate Hanno di vita 8400 Quindi cioè Sono assurdi Non so se ce la faccio Tenerli Beh in teoria Questo qui toglie 450 Quindi Oddio Oddio abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Oddio ragazzi Ce ne mancano tre Sono passati tutti Quegli scarabèi Sono proprio Allora Allora farei una cosa Leviamo questo Che ho messo inutile Leviamo questo Che secondo me È inutile Leviamo questo Questo è al massimo Ormai Lo teniamo Perfetto Allora direi di mettere Uno di questi qua E potenziare questo qui Al massimo Adesso vengono 25 No di nuovo E qui la vedo brutta Proviamo Però la vedo brutta Devo subito potenziare questo qui Devo subito potenziare questo qua Dai 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 No niente abbiamo perso Abbiamo perso Me la sono giocata un pochettino male Sono arrivata addirittura peggio dell'altra volta Vabbè ragazzi Per questo video direi che può bastare Farò Non penso domani però Forse tra altre giorni ricaricherò Di nuovo Questo video Nel senso Riproverò a fare questo livello Comunque Per questo video è tutto Io vi saluto E ci sento alla prossima Bella ragazzi